Ancora arresti della polizia di frontiera nel corso dei controlli ai valichi del Carso. 9 le persone finite in manette fra il 20 giugno e il 5 luglio, 3 passer e 6 latitanti. Il primo trafficante di migranti in arrivo dalla rotta balcanica è stato arrestato all'alba dello scorso 28 giugno al valico di Fernetti. L'uomo, titolare di un permesso di soggiorno emesso dalla questura di Napoli, accompagnava in auto due turchi di 26 e 31 anni, privi della documentazione necessaria. Il giorno seguente sono stati fermati gli altri due passer, nel primo pomeriggio al valico di Rabuiese, un 41enne albanese residente in Croazia, e nella tarda serata al valico di Peso, un 25enne siriano domiciliato in Olanda. Con il primo viaggiava un suoco nazionale di 24 anni, senza la documentazione per l'ingresso in Italia, e destinatario di tre provvedimenti di inammissibilità nell'area Schengen. Il cittadino siriano, alla guida di un'autovettura con targa slovena, trasportava invece una giovane coppia turca con tre bambini di 2, 5 e 6 anni, dirette in Germania, e un altro turco maggiorenne, diretto in Olanda. Sono finiti in carcere anche due italiani di 32 e 59 anni, identificati tra i passeggeri di un autobus romeno, controllato nella notte del 20 giugno al valico di Fernetti. Entrambi condannati in via definitiva per reati contro il patrimonio, commessi in varie località d'Italia, devono espiare un cumulo di pena detentivo, il 32enne di 2 anni e 6 mesi, il 59enne di 2 anni e un mese. Tutte le persone arrestate sono finite al carcere di Trieste.